In questo video ci poniamo l'obiettivo di risolvere un sistema crameriano. Consideriamo il seguente esempio. Un sistema è crameriano quando la matrice dei coefficienti è quadrata e ha determinante diverso da zero. Passiamo quindi a scrivere la matrice associata a questo sistema. Scriviamo m uguale. Come prima riga prendiamo i coefficienti della prima equazione. Come seconda riga prendiamo i coefficienti della seconda equazione. Cominciamo a osservare che la matrice è quadrata, quindi la prima condizione è verificata. Calcoliamo ora il determinante della matrice m. Determinante di m uguale al prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli altri due elementi. e otteniamo 11. A questo punto osserviamo che entrambe le condizioni sono verificate in quanto la matrice associata è quadrata e ha determinante diverso da zero. A questo punto costruiamo la matrice m1. La matrice m1 si ottiene dalla matrice m sostituendo la prima colonna con la colonna dei termini noti. Calcoliamo il determinante di m1, che è uguale al prodotto degli elementi della diagonale principale meno il prodotto degli altri due elementi. e otteniamo meno 3. A questo punto consideriamo la matrice m2, ottenuta sempre dalla matrice m sostituendo la seconda colonna con la colonna dei termini noti. calcoliamo il determinante di m2 uguale a meno 4 meno 3 uguale meno 7. Abbiamo quindi calcolato il determinante di m, il determinante di m1 e il determinante di m2. La soluzione del sistema crameriano è la coppia ordinata xy che si ottiene nel seguente modo. Allora la x si ottiene come rapporto tra il determinante di m1 e il determinante di m e risulta essere uguale a meno 3 undicesimi. Mentre il valore di y si trova come rapporto tra il determinante di m2 e il determinante di m e risulta essere uguale a meno 7 undicesimi. Abbiamo quindi ottenuto la coppia ordinata di numeri meno 3 undicesimi meno 7 undicesimi che è la soluzione del sistema crameriano. Abbiamo quindi stabilito quando un sistema è crameriano e abbiamo determinato la sua unica soluzione.